Siracusa, violenza sessuale su due bambine, sessantenne condannato a dieci anni. È stato condannato a dieci anni di reclusione l'uomo accusato di aver abusato in casa di due bambine che nel 2012 avevano quattro e sei anni. La sentenza in primo grado è stata messa dal tribunale di Siracusa al termine del processo discusso con il rito ordinario. Una vicenda dai contorni di degrado sociale. I fatti sono verificati nell'abitazione dell'uomo dove avrebbe trovato ospitalità la famiglia con le due bambine e il fratellino il quale non avrebbe avuto attenzione. Il sessantenne residente a Francofonte è stato riconosciuto responsabile di violenza sessuale nel dispositivo della sentenza che condanna il francofontese. A fine aprile si conosceranno le motivazioni dei giudici e probabilmente la difesa dell'imputato ricorrerà in appello. La vicenda è emersa dici anni fa quando la famiglia era ospite in una comunità interessando le autorità competenti i quali hanno aperto un'indagine. Nell'incidente probatorio le vittime hanno confermato le attenzioni morbose del sessantenne con il conseguimento del rinvio a giudizio. Grazie. Grazie. Grazie.